Bentornati a Natural Woman, io sono Beatrice e questa è la mia pillola di podcast. Natural Woman è un viaggio attraverso le vite e le voci delle grandi interpreti femminili del mondo della musica. Il personaggio di questa puntata è un artista inglese che è stata uno dei pochi fenomeni del panorama musicale contemporaneo ad accogliere plausi unanimi e in maniera completamente trasversale. Un personaggio scomparso prematuramente ma che lascia un'eredità musicale unica e apprezzatissima e sto parlando di Amy Winehouse. Amy Winehouse nasce nel Middlesex in Inghilterra il 14 settembre 1983 in una famiglia della working class inglese quindi figlia di un taxista e di una farmacista che le hanno trasmesso fin da piccola l'amore per la musica jazz. A seguito della separazione dei genitori dopo essere stata espulsa da scuola all'età di 14 anni inizia a strimpellare la chitarra e a scrivere le prime composizioni autografe. Dopo i primi incerti passi in mini sconosciute formazioni rap iniziano a circolare alcune sue registrazioni che attirano l'attenzione dei grandi colossi discografici. Nel 2003 esordisce direttamente su major con l'album Frank disco elegante ma non imprescindibile dal quale emerge però la sua personalità ancora un po' acerba di un artista che si muove nel mood al crocevia tra R&B e atmosfere jazz. Per aggiungere la notorietà a livello internazionale bisognerà attendere poi il suo disco successivo che è Back to Black pubblicato esattamente tre anni più tardi e che sarà capace di ricevere immediatamente ottime recensioni un po' ovunque sulla stampa specializzata ma soprattutto dal pubblico. Con questo secondo album l'allora 23enne Amy Winehouse lascia da parte le atmosfere jazz del lavoro precedente per immergersi nelle soluzioni soul e R&B. Quindi cambia genere ma Amy Winehouse non è semplicemente una voce come nel caso di Frank e anche autrice e coautrice di tutti i brani presenti nella tracklist di Back to Black e quindi questa può essere una caratteristica che la innalza artisticamente al di sopra di tutte le esecutrici presenti sul mercato al suo tempo. Amy Winehouse è riuscita nel miracolo di riportare in auge in maniera molto originale e autentica quel sound del passato quindi il soul ricontestualizzandolo ovviamente nel presente e in particolare nel suo dolore. Perché il 23 luglio del 2011 Amy entra ufficialmente a far parte di quell'inquetante club dei 27 insieme al leader Danny Ivana, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, giusto per citarne alcuni tutti questi artisti straordinari sono scomparsi all'età di 27 anni tra il tormento personale, la disperazione e talvolta, come nel caso di Amy, anche la dipendenza. Amy è stata un'artista che in pochissimi anni ha saputo conquistare il pubblico e critica di tutto il mondo, una voce unica e inconfondibile che resterà per sempre sicuramente è una Natural Woman, la mia pillola di podcast termina qui. Io sono Beatrice, vi ricordo di seguire le pagine Facebook, Instagram e YouTube il podcast, vi ricordo di seguire Natural Woman su Spotify e Apple Podcast, io sono Beatrice, questa è Amy Winehouse e questo è Natural Woman. Grazie a tutti.